Un filmato di Rai 3 Liguria mostra il momento in cui la porta container Jolly Nero colpisce la torre di controllo nel porto di Genova. Nell'incidente del 7 maggio sono morte otto persone, tre civili e cinque militari della Capitaneria. Si cerca il corpo dell'ultimo disperso il sergente Gianni Iacoviello.